Penso che abbiamo giocato una buona partita, abbiamo fatto le cose che avevamo preparato in settimana, probabilmente alla fine, anzi sicuramente abbiamo pagato un po' di freschezza atletica e anche in certe scelte che abbiamo fatto, offensive, però devo fare complimenti alla mia squadra perché penso che abbia fatto una buonissima gara. L'unica problematica che abbiamo avuto secondo me è un po' troppi rimbazzi offensivi, quindi parecchi secondi tiri concessi a loro e questo alla fine l'abbiamo pagato e ha concesso secondi o terzi tiri alla fortitudo e quindi hanno portato a casa questa gara che è stata equilibrata, siamo stati avanti per 35 minuti e è un peccato, abbiamo avuto poi problemi con Weaver alla schiena e con Allen di Trampi perché Allen è rientrato dopo 20-25 giorni di assenza, ho cercato di girare un po' tutti, di distribuire anche il minutaggio e niente, la partita è andata così, però sono contento, siamo stati ben in squadra, in campo e spero che questo atteggiamento lo manteniamo per tutto l'anno per arrivare al nostro obiettivo che è quello di salvarci a più presto. Grazie.